Gli avvenimenti storici hanno più valore se vengono raccontati al cinema. Faremo vedere tre film che raccontano tre momenti importanti e dolorosi della storia europea recente e insieme all'aiuto di esperti analizzeremo questi film dal punto di vista linguistico ma anche dal punto di vista esistenziale, filosofico e analizzeremo il messaggio che questi film volevano dire, che questi registi volevano portare avanti, ogni volta che un evento storico viene messo in scena dà ancora più valore a quello che si dice, dà ancora più risonanza, come se le cose raccontate fossero ancora più vere, più dure di quelle che sono successe veramente. Stiamo parlando di tre film importanti, Hannah Arendt della Controtta che analizzeremo insieme alla regista e attrice Paola Bigatto, il film dei fratelli taviani La masseria della lodole che vedremo insieme all'autrice del libro a cui si è ispirato il film Antonia Slan e infine vedremo anche Perfect Day, un film sul dramma, sulla guerra di Jugoslavia di diversi anni fa che analizzeremo in compagnia dello studioso esperto Andrea Benati. Vi aspetto a questa analisi che faremo, invitato un invito che facciamo per tutti coloro che fossero interessati, soprattutto agli insegnanti e agli studenti. Grazie. Grazie.